Nuovo sequestro della Guardia di Finanza dell'Aquila per la vicenda della ricostruzione del complesso immobiliare ex St. Andrews di Campotosto. I finanzieri della compagnia del capoluogo hanno sequestrato beni per ulteriori 850 mila euro in relazione all'avvenuta percezione da parte degli indagati di un ulteriore sal, cioè stato di avanzamento lavori. Il provvedimento è stato firmato dal GIP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta del procuratore capo della Repubblica Fausto Cardella e del PM Simonetta Ciccarelli. Già nello scorso novembre i finanzieri avevano posto sotto sequestro beni per un importo di circa 1,2 milioni di euro corrispondenti al contributo pubblico che allora risultava percepito dagli indagati a fronte della presentazione di un progetto esecutivo di lavori di ristrutturazione post-sisma, rivelato Simendace. Le indagini infatti avevano fatto emergere che l'immobile era inagibile e fatiscente già prima del terremoto e che la richiesta di contributo era basata su dichiarazioni non veritiere da parte dei tecnici incaricati e sulla compiacenza dei pubblici amministratori e funzionari del comune. Gli indagati sono 13 e devono rispondere a vario titolo di indebita percezione di finanziamenti pubblici e abuso d'ufficio. Proprio in fase di esecuzione del sequestro di novembre i finanzieri avevano accertato che c'era stata una erogazione anche dell'ultima tranche di contributo e per tale ragione avevano posto sotto sequestro 300 mila euro ancora giacenti sul conto corrente dedicato a parziale copertura di quest'ultimo importo. Alla luce di tali emergenze rapportate alla magistratura i finanziari hanno ora eseguito un ulteriore provvedimento ablativo sui beni di proprietà degli indagati fino a concorrenza del contributo cioè circa 850 mila euro. In particolare sono stati sottoposti a sequestro un totale di nuovi immobili tra l'Aquila, Campotosto, Avezzano e Roma. Complessivamente l'indebita percezione in danno dello Stato ammonta circa 2,4 milioni di euro.